Pillole di teologia di Fulvio Ferrario Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentrovati per questa terza puntata del programma di Radio Bequite Evangelica Pillole di teologia. Io sono Fulvio Ferrario, pastore della Chiesa Valdese e professore di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di teologia in Roma. Con questa puntata iniziamo una nuova serie di trasmissioni, non brevissima, che sarà dedicata all'illustrazione del credo della Chiesa. In particolare io ho scelto il credo amato di Nicea Costantinopoli. Se ci sono ascoltatrici, ascoltatori cattolici, cattoliche in ascolto, è quello che si recita nella Messa. Nella Chiesa Evangelica è più in uso il credo apostolico, ho scelto quell'altro perché intanto ha una parte più sviluppata su Gesù Cristo e permette di dire più cose e poi in Italia è conosciuto e quindi è utile forse parlarne. Ma intanto che cos'è il credo della Chiesa? Questa specie di preghiera viene utilizzata un po' così nella liturgia che include parecchie parole stranissime di difficile comprensione a volte anche degli specialisti, parole che vengono da un altro tempo, da un'altra storia. Appunto il credo vorrebbe essere un riassunto molto concentrato delle affermazioni che in una certa fase della storia della Chiesa, in questo caso della Chiesa antica, sono state ritenute decisive. Cioè si dice noi crediamo nella rivelazione del Dio della Bibbia e in questo contesto culturale il Dio, questa fede può essere riassunta in alcune espressioni fondamentali, solo che per noi sono difficili da capire, appunto perché rispondono forse a domande molto diverse da quelle che noi oggi ci poniamo. C'è quindi già una domanda fondamentale all'inizio di questa serie, perché è necessario leggere il credo? Non potremmo semplicemente scriverne un altro? Io tenderei a rispondere in modo parzialmente affermativo a queste domande. Io credo sì, ogni generazione per certi aspetti deve riscrivere il proprio credo. Per farlo occorre leggere anzitutto la Bibbia naturalmente, ma non è inutile anche avere una certa idea quello che intendevano dire queste vecchie formule, antiche diciamo meglio, della tradizione cristiana, che esse hanno fatto la storia. Cioè sono entrate per così dire nel sistema circolatorio della Chiesa, l'hanno plasmata, l'hanno costituita, l'hanno formata e dunque è bene conoscerle anche per poterle riscrivere nel proprio tempo e nella propria situazione. Ogni generazione ha non solo il diritto, ma anche il dovere di ridire la fede e questo avviene anzitutto in dialogo con la scrittura, ma anche in dialogo con le sorelle e i fratelli che hanno cercato di dire la fede cristiana prima di noi nel passato. Per questo motivo ci interroghiamo su queste formule. Non le vogliamo sacralizzare. Sono un pastore protestante, ho detto, nella tradizione della riforma il credo ha un ruolo importante, ma non precisamente assoluto. Cioè noi lo leggiamo come segno della nostra solidarietà, del nostro legame con generazioni che ci hanno preceduto. Lo leggiamo anche per dire che la Chiesa della Riforma non è nata nel 1517, non è nata con Lutero, ma affonda le proprie radici nel grande passato della Chiesa universale, in questo senso cattolica, non cattolico-romana, ma appunto Chiesa di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Lo leggiamo quindi con questo rispetto profondo, ma in vista di una riscrittura. Quello che queste trasmissioni vorrebbero offrire è la possibilità a ogni cristiano e ogni cristiana che ascolta di capire per poter meglio poi dire la propria fede con le proprie parole. La prima parola del credo è credo, cioè la prima persona singolare del verbo credere. Ma c'è una seconda parolina, è molto importante per prendere l'insieme e vorrei dire più in profondità per comprendere la fede cristiana come tale. Credo in. Il testo non dice credo che. Questo ci induce a riflettere un poco sul significato del verbo. Nel linguaggio comune, credere, significa qualcosa di meno che sapere. Ad esempio, se prescindiamo per un attimo dalle previsioni del tempo che troviamo sul nostro cellulare, potrei dire io credo che oggi non pioverà. In realtà non so esattamente se pioverà o meno e dato che non lo so, credo, cioè ipotizzo. Questo significato del verbo credere non è quello che la Bibbia conosce. Nella Bibbia c'è sempre un credere in, cioè dal punto di vista grammaticale il verbo credere è seguito da un complemento di moto in luogo. Credo in. Sono in cammino verso. Credere che vuol dire ritenere come vere determinate cose. Credere in vuol dire qualche cosa di un po' diverso. Che cosa voglia dire? Non è così difficile da immaginare. Lo diciamo anche noi nel nostro linguaggio comune. Io credo in te. Vuol dire semplicemente credo che tu esista. vuol dire credo che nel mio rapporto con te io posso trovare delle risorse, delle relazioni. Ho fiducia di trovare presente e futuro. Ho fiducia di trovare una dimensione di me stesso che io non possiedo ma che mi può solo venire donata nella relazione con te. Questo è il significato del verbo credere nel credo e nella fede. Cioè nella relazione con Dio io incontro possibilità, risorse per vivere il tempo, lo spazio, per vivere me stesso in una dimensione e attraverso possibilità senza tale relazione non sarebbero possibili. Dio è il mio tu, lui dal quale io mi aspetto presente e futuro. Credo vuol dire confido. Mi aspetto che desidero all'interno di una relazione, attendere, essa recchi i propri tutti, essa mi trasformi. Credere vuol dire di nuovo confidare e anche sperare, anche attendere e anche desiderare. È il verbo di una relazione. non è solo e neanche in primo luogo il verbo di un sapere imperfetto. Non so ma credo. Nell'attuale contesto si tratta di una distinzione molto importante. Tutta la polemica anticristiana sostiene fin dall'antichità del resto in particolare quanto segue. Se io so non ho bisogno di credere. Se credo è perché non so. il sapere dunque rende superata, inutile, obsoleta la fede. Questo mito razionalista non colpisce l'idea di fede che il credo presenta. Riassumo, ripeto, perché secondo me intorno a questo si gioca molto. Se io ho l'idea del credere come un sapere imperfetto, chi lo sa? Non sappiamo e quindi crediamo. La mia relazione con Dio sarà basata sulla incertezza e in fondo anche sulla paura nei confronti di quello che non so. La Bibbia propone qualcosa di molto molto diverso. Il sostantivo che corrisponde al verbo credere, già l'abbiamo usato, è il sostantivo fede. Nella storia della cultura occidentale e non solo, la parola fede è spesso pronunciata insieme, a volte contrapposta, comunque messa in relazione con la parola ragione. Si parla spesso di una dialettica, di una tensione, di una sinergia oppure di una contrapposizione, di un'alternativa tra fede e ragione. Io vorrei dire che fede e ragione, se per ragione si intende il pensiero razionale, il pensiero critico, fede e ragione in realtà non sono né in contraddizione, neanche non sono nemmeno semplicemente coordinabili, si muovono su piani diversi. Diciamo che l'essere umano che crede, esattamente come quello che non crede, ragiona. Ragione cioè è interna alla fede oppure alla non fede, non è esattamente sullo stesso piano. Io posso confidare in una persona e al tempo stesso ragionare su di lei, le due cose sono certamente legate ma non si identificano. Chi crede, nel senso cristiano della parola, crede in Dio, poi crede in che cosa? Chi è Dio? Il pensiero occidentale ha spesso risposto a questa domanda mediante dei concetti, cioè cercando di individuare concetti in genere filosofici, cioè tratti da quella particolare forma di pensiero che ha in Grecia le sue origini e che si chiama tradizionalmente da noi filosofia. Sono pensieri piuttosto astrati. Io vorrei fare questa proposta. Quando noi cerchiamo il contenuto della parola Dio, prima di rivolgerci ai concetti, compresi quelli del credo, che sono complicati quanto basta, ci rivolgiamo a delle storie. Io direi la parola Dio è il risultato, il riassunto, diciamo meglio, la sintesi, il concentrato delle storie di liberazione raccontate nella Bibbia. La Bibbia parla della vicenda di Israele, dall'Egitto alla libertà e poi della difficile vicenda di Israele nella terra che ancora oggi vede questo popolo in una situazione conflittuale nei confronti di altri popoli. E poi la Bibbia ci racconta nel Nuovo Testamento la storia di Gesù e di coloro che in Gesù hanno trovato una promessa di un'esistenza nuova, cioè coloro che in Gesù hanno creduto. Gesù dice di parlare e di essere, di esistere, per così dire, per conto di Dio. Bene, tutte queste storie, queste vicende, queste speranze, questi fallimenti anche, questi dubbi, queste angosce, sono condensate nell'espressione io credo in Dio. Quando le cristiane e i cristiani dicono così, intendono dire, queste vicende della Bibbia, queste storie di liberazione, ma anche di fallimento, ma anche di peccato, nella Bibbia hanno trovato espressione, sono per me narrazioni fondamentali nel senso in esse io cerco un significato, un orientamento per quanto riguarda la mia esistenza. Credo in Dio vuol dire io faccio mie queste storie di liberazione, credo in Dio vuol dire in qualche modo io cammino con tutta forza che da questo deriva, ma anche con tutti i dubbi che inevitabilmente porto con me, cammino insieme a queste donne, a questi uomini di cui parla la Bibbia, e che hanno trovato in Dio il fondamento e l'accompagnamento del proprio futuro. Basti questo come piccola introduzione al significato del verbo credere e del sostantivo fede. Fulvio Ferrario vi ringrazia per l'attenzione e vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata della nostra trasmissione Pillole di Teologia.